Ci troviamo nell'ufficio dello sceriffo dei Phoenix, stato dell'Arizona, appena tenuto una conferenza stampa sulla discussa legge contro l'immigrazione. Vediamo quello che sta succedendo. La chiesa della chiesa della chiesa di legge contro l'immigrazione. Ok, there's about 800,000 people down there. I think we arrested 38 so far. Ok. And they've bought a major police force to stop this protest, they shut off the highway, the entire highway this morning to keep people from getting here and we're saying this is exactly what's needed. People need to be out in the streets, mass protests against this law and not be relying on some part of the people who rule over us to do this. I mean Obama's plan is no better, he just wants silent raids. They have in the streets against the law for immigration, you see the police, a lot of manifestants… This building is the government. We're trying to find… Bye, bye! Bye! C'è una soluzion al problema dell'immigrazione illegale? E io credo che la soluzione finalmente è che ogni persona ha bisogno di conoscere l'altro.